bisogna imparare a guardare il bicchiere mezzo pieno ad aiutarci ogni settimana ci pensa il più grande spacciatore di buone notizie e di buon umore ovvero Ennio Doris buongiorno signor Doris benvenuto buongiorno a lei a tutti gli ascoltatori e telespettatori abbiamo appena dato la notizia del Giro d'Italia la tre giorni in Israele una tre giorni la partenza di questo Giro 2018 storica sulle strade di Gerusalemme e poi ieri il deserto affascinante l'immagine della carovana rosa che attraversava il deserto sul nastro d'asfalto nero e poi l'arrivo sul Mar Rosso a Eilat questa mattina noi signor Doris abbiamo dedicato la linea diretta ad una domanda che inevitabilmente porta a pensare allo sport e chiama in causa lo sport nella vita conta solo vincere lei è un grandissimo appassionato di sport di ciclismo in modo particolare c'è appunto il Giro in Israele che cosa possiamo dire a chi ci ascolta come affrontare la vita e che cosa imparare anche dallo sport. Guardi accorgo molto molto volentieri la sua domanda ma prima mi consenta di aprire e chiudere una parentesi rapidissima perché ho appena sentito le preoccupazioni sul prezzo del petrolio allora io voglio dire è chiaro che specialmente per un paese come l'Italia più basso il prezzo del petrolio meglio è perché siamo importatori ma in una situazione in cui l'inflazione rimane molto bassa e quindi gli effetti sull'inflazione del petrolio non si fanno ancora sentire o se si piacessero sentire sono quasi benvenuti e secondo il peso del petrolio su quello che è il costo finale di un prodotto e quindi l'economia non è più quello di una volta grazie alla tecnologia il costo dell'energia tende a uccidere sempre meno quindi qualche preoccupazione ma non troppo detto questo parliamo proprio di questo straordinario avvenimento che è il giro d'Italia con le prime tre tappe in Israele vede pensando queste tre tappe in Israele non si può non andare ai tempi molto molto bui dell'ultima guerra mondiale con quello che ha rappresentato il nazismo il fascismo le leggi razziali la persecuzione degli ebrei e così via ebbene anche nei momenti più bui ci sono persone che tengono la barra dritta e a costo della propria vita portano avanti certi valori il campione uno dei campioni di questo tipo è Gino Bardali che a quell'epoca era il più forte corridore del mondo Paolo Coppi aveva vinto il giro d'Italia nel 40 ma poi era aveva vent'anni non si sapeva ancora come sarebbe esploso ebbene Bardali era il più grande campione del mondo in quel momento aveva vinto due giri d'Italia e un giro di Francia a livello internazionale ebbene non ha esitato a rischiare la propria vita per portare delle dei passaporti diciamo delle caratteristità false per degli ebrei per salvarli da morte certa e pensate quanti viaggi ha fatto ha trasportato 800 di questi documenti falsi come andare e andare e viene di centinaia di chilometri ogni giorno per andare a una stamperia clandestina e portarli a Firenze bastava che lo trovassero una sola volta e Bartali era condannato a morte ebbene questo non lo ha fermato non a casa non a casa lo glorificano come giustamente attributano gli onori come uno dei grandi dei grandi della terra e vedete allora se noi pensiamo a tempi così bui e poi vediamo che l'essere umano è uscito grazie all'azione sconosciuta di miti e di tante tante persone perché quello di Bartali non è stato un caso misurato in Italia ma di tante persone rimaste tra l'altro sconosciute per tanti per tanti anni e solo qualcuno è venuto alla legge allora questo si dice che noi dobbiamo guardare al futuro sempre con fiducia perché l'essere umano alla fine tira fuori tutte quelle straordinarie doti che ha per procedere nella direzione giusta la crisi che abbiamo alle spalle fa ridere fa sorridere rispetto ai tempi bui di allora e ne siamo usciti grazie a gente come Gino Bartali campione di sport ma soprattutto campione umano e allora vede io ho guardato queste tre tappe del giro tra l'altro con due vittorie di un nostro velocista che è un velocista se non mi sbaglio della mia terra è un veneto Viviani è stato un po' come la ciliegina nella torta i due successi di Viviani in volata tra l'altro splendido straordinario campione perché vincere una tappa in volata in qualche caso può essere anche stata questione di fortuna ma ripetersi il giorno dopo in una situazione così difficile vuol dire che Viviani è veramente un fuoriclasse quindi siamo felici anche dal punto di vista sportivo anche come italiani e accogliamo questo nuovo grande campione ma soprattutto soprattutto dobbiamo essere felici perché il nostro paese ha dato Natali a gente a uomini come Gino Bartali e continuerà a tenerarli. Ci fa molto piacere questo però volevamo capire una cosa abbiamo parlato proprio con i nostri ascoltatori questa mattina della della vittoria no del senso della vittoria e ci siamo chiesti insieme a loro se è sufficiente vincere nella vita proprio facendo anche riferimento allo sport oppure se si impara anche magari da qualche piccolo fallimento. Guardi guardi Gatti diceva che non è importante la velocità con la quale procedi ma la direzione. Allora quando la direzione è quella giusta ci possono essere dei sconfitte ma le sconfitte sono grandi maestre di vita per chi vuole imparare. A volte una sconfitta è più utile di 100 vittorie perché ti consente di evitare degli errori e di evitarli per il futuro. Le sconfitte sono il sale della vita perché l'essere umano è un essere creativo che sperimenta strade nuove e sperimentando strade nuove naturalmente di tanto inciampa ma è proprio qua che viene fuori l'essere umano. E' proprio così. E' proprio così grazie per avercelo ricordato signor Doris le sue parole sono sempre ricche diciamo così di entusiasmo e anche di speranza. Le auguriamo buona giornata, buon lavoro, ci sentiamo lunedì prossimo. Grazie, buon lavoro a tutti voi, a tutti i telespettatori e ascoltatori. E' sempre avanti.